Pochi gesti e l'acquisto è fatto. È arrivata anche in Italia PowerTag, l'innovativa app di instant shopping che permette di fare compere tramite smartphone, direttamente in negozio, sulle piattaforme online, attraverso le pubblicità sui giornali, radio e tv e qualsiasi altra forma di materiale stampato, come spiega Germano Marano di PowerTag. Io vedo qualcosa, ascolto qualcosa e posso immediatamente interagire, fornire i miei dati e comprare oppure diventare un lead per il brand. Un'unica applicazione che permette di acquistare diversi prodotti, Power Technologies, che si definisce un facilitatore di business, ha infatti stretto accordi con più di 800 marchi e rivenditori a livello mondiale e molti altri sono in corso. Noi non siamo un sistema di pagamento, siamo un nuovo canale di vendita e questa è l'enorme differenza con tutto quello che c'è adesso nel mercato. Per quanto riguarda la sicurezza del sistema, il CEO di PowerTag, Dan Wagner, non ha dubbi. PowerTag è estremamente sicuro perché utilizza i sistemi di sicurezza utilizzati dalle banche, i dati personali e delle carte di credito hanno un altissimo livello di protezione. Motivi, brand del gruppo Miroglio, player internazionale nel fast fashion, è il primo marchio ad aver portato in Italia questa tecnologia per allargare esponenzialmente i potenziali clienti. La possibilità di rendere i nostri negozi, far diventare qualsiasi elemento in circolazione un negozio di motivi e questo è un grande vantaggio, è il negozio che esce dalle proprie mura. In 48 ore la merce ordinata viene consegnata a casa senza ulteriori costi.